Questo è un liquido non newtoniano, è un fluido non newtoniano, guardalo che bello, è magico, wow. Dovevamo svegliare i trucchi di come l'abbiamo fatto? No. No, lascia che ti scrivi in un commento, poi lo vanno a cercare su Google. No, la gente non ha voglia. Dai, vai giù Maizena. Vabbè, un ingrediente l'avete già capito. Guardalo, oh no, sei incollato alla carta. Ecco, aspetta, un'idea. Guardalo. Ecco, aspetta, devo fare una palla. Ecco la palla. Adesso guarda l'esperimento con la palla. Vado a continuare a muoverla, se no non è palla. Adesso guardate l'esperimento con la palla, la palla, la palla, la palla. Magia! E fino a pugno. E la mano è pulita. Invece faccio così? La mano rimane comunque pulita? No! La mano non rimane comunque pulita. Però io sono sport. E vabbè, ti laverai. Va bene. Signori, alla prossima.